good morning juventus good morning juventini non credo non credo che sia un good morning per chi ama e per chi ti fa la juventus o meglio sarebbe un good morning se qua fra qualche minuto accendendo la radio dopo che avete visto questo video ovviamente ci arriva la notizia che allegri è stato esonerato la juventus senza ronaldo che era un problema giocherà meglio allegri lo aveva capito e quindi ha fatto in modo che se ne andasse e allegri è stato accontentato la juventus vedrete tempo che mette a posto i meccanismi vedrete come giocherà sembrerà un'orchestra che suona all'unisono diretta da von karajan e invece suona una musica stonata diretta da von caprian una capra un allenatore scarso un allenatore che è rimasto agli antipodi che come ho detto ieri sera nell'analisi e nelle pagelle è l'anticalcio un allenatore che è difeso soltanto da degli illusi è difeso soltanto da degli incompetenti che di calcio non capiscono nulla oggi è ufficiale chi difende allegri di calcio non capisce nulla ditemi che cosa salvate di questa stagione di allegri un allenatore che lo ha dimostrato ieri sera lo ha dimostrato ieri sera la squadra era riuscita con un moto d'orgoglio a altare dal 1 a 0 al 2 a 1 e lui l'ha fatta abbassare finché l'inter ci ha preso a pallonate e ci ha fatto aiuto l'arbitrale sicuramente ma ci ha preso a pallonare ci ha fatto altri altri quattro gol altri due gol vincendo 4 a 2 allora io dico una cosa non credo che vi paghi allegri per difenderlo quindi le categorie di coloro che difendono allegri sono quelli che non capiscono un cazzo di calcio ma quelli c'è pieno così parlano vanno al bar sentono una stronzata non vedono le partite non hanno neanche l'abbonamento da zone non hanno neanche l'abbonamento a sky non le guardano però fanno finta di sapere tutto di calcio non hanno mai giocato a calcio non sanno neanche cosa vuol dire stoppare un pallone tai e vai movimenti senza palla dribbling take non sanno non sanno un cazzo ma parlo tastiera le dittina sulle tastiere le scrivono cazzate e questi che vanno a fare in culo pure dal mio canale non li voglio fuori 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 dalle balle fuori dalle balle non ho bisogno di iscritti imbecilli non li voglio io ho una community meravigliosa di persone intelligenti che ragionano con la propria testa allora e poi ci sono quelli la seconda categoria che è la peggiore di tutte che di calcio capisce ma per motivo che io non riesco a capire recondito misterioso continuo a difendere allegri ma io penso di aver capito voi non difendete allegri perché vi piace allegri voi difendete allegri perché vi siete esposti vi siete esposti non avete l'onestà intellettuale non avete il coraggio l'umiltà di dire che vi siete sbagliati io l'ho fatto io ero un estimatore di allegri nei primi due anni del suo mandato il precedente quando visto che non ne azzecava più una ho detto no caro allegri forse forse ti ha aiutato la fortuna forse ti ha aiutato anche l'assetto della squadra che aveva costruito conte tante cose che erano state messe a posto quando poi hai dovuto fare tu hai disfatto quest'anno allegri ha fatto peggio di pirlo mettetevelo bene nella testa e quei deficienti che dicono eh ma è arrivato al quarto con tre giornate per anticipo e cosa sarebbe un titolo di merito questo secondo voi la juve che arriva a quarta è un titolo di merito voi siete cassieri voi che guardate quando la juventus arriva a quarta che si sono in tolita della champions lì guardate che ha fatto schifo tutta la stagione la juventus almeno pirlo che ha fatto schifo tutta la stagione ha portato a casa la supercoppa italiana e la coppa italia e non aveva mai allenato non aveva mai allenato magari questo qui si rimette ad allenare e diventa il nuovo ancelotti pirlo e rimpiangeremo di averlo abbannato via questo è tornato prende 9 milioni tutti rubati perché sono tutti rubati quest'anno i 9 milioni che si è portato a casa sono tutti rubati ok tutti rubati non nel senso che li ha rubati non fraintendetemi nel senso che non se ne merita neanche uno di quei 9 milioni va bene quindi stagione fallimentare attenzione perché se volete essere bannati dal mio canale io non ho problemi a bannare anche 100 persone non ho nessun problema gli iscritti crescono quindi non ho problema a bannare 100 persone perché vedo che c'è gente che è intelligente che capisce e quindi mi segue e si fida di quello che dico io perché io amo la juve io l'amo la juve io l'amo la juve ok io l'amo la juve io ho io posso indossare la maglia della juve ci sono tanti giocatori in questa squadra compreso l'allenatore che non meritano di indossare la maglia della juventus no 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 stagione fallimentare senza punto interrogativo è ufficiale stagione fallimentare abbiamo richiamato l'allenatore gli abbiamo dato 9 milioni quel presidente che abbiamo ribambito gli ha fatto un contratto capestro di 4 anni a 9 milioni che se glielo faceva va due lo potevamo mandare domani mattina o anche stamattina domani mattina o anche stamattina invece con 4 milioni 4 anni non lo puoi mandare via perché se lo mandi via gli devi pagare altri 3 anni ok e tranne qui e tranne la tranne questo qua è 9 anni che si mantiene con la juventus senza fare un cazzo quindi signori mi avete mi dovete lasciare sfogare stamattina mi dovete lasciare sfogare perché ieri sera ho fatto fatica ad adormentarmi non posso accettare che mi avete fatto andare via ronaldo spacciandolo per un problema e non lo era mi avete preso allegri spacciandomelo per il salvatore della patria e non lo è stato e soprattutto io devo pensare che quest'estate la juve se non gli compra giocatori forti perché lui vince soltanto ma anch'io è anche voi sareste capaci con i giocatori forti perché giocare da soli no vince se gli compra giocatori forti perché se non gli prendono i di maria non gli prendono i minico vizzavic non gli prendono i de bruin faccio dei nomi a caso i grandi giocatori lui con i giocatori normali ok fanno solo danni solo dei danni ok va bene è chiaro che è stata è una stagione fallimentare questa è stata è chiaro avete ancora dei dubbi avete ancora dei dubbi che è stata una stagione fallimentare o no ci siamo no ci siamo capiti perfetto io vi saluto speriamo in un domani migliore e non mi riferisco a domani venerdì mi riferisco a un domani migliore in senso generale questa è stata una stagione dove io professionalmente ho avuto delle grandi soddisfazioni e vi ringrazio di cuore perché mi avete seguito mi avete sostenuto e vi sosterrò io a mia volta col calcio mercato dandovi sempre informazioni più possibili vicino alla verità e più possibili realistiche però signori lasciatemi l'amarezza questa mattina di dire che vorrei che succedesse qualche cosa veramente un miracolo veramente un miracolo che si rendano conto di aver sbagliato e che prendano un attore anche giovane la lasciano lavorare ce lo dicano per dottorani non vinciamo niente e costruiamo ma tiratevi allegri dalla panchina della juventus vi prego tirate via perché secondo me l'anno prossimo rischiamo di fare ancora come quest'anno perché le altre milan inter napoli o roma di morigno non staranno a guardare fidatevi non staranno a guardare si rinforzeranno anche loro good morning juventus rischiamo di fare ancora come quest'anno